La prima cosa che dobbiamo capire, quando parliamo di compressione di un suono, è che cosa sia un compressore. Quando stai facendo il mix di un brano e dai tutta una serie di tracce audio da miscelare tra di loro, la prima difficoltà che incontri è quella dovuta ai picchi del segnale di ogni singola traccia. È impensabile che una traccia audio abbia per tutta la sua durata lo stesso volume dall'inizio alla fine, ovvero la stessa intensità conservata dall'inizio della sua registrazione fino alla fine. È chiaro quindi che la traccia audio che stiamo per lavorare all'interno del mix del brano avrà dei cosiddetti picchi audio per tutta la sua durata. Più rendiamo la traccia audio regolare, ovvero con un volume quanto più stabile possibile per la sua intera durata, più riusciremo a rendere il nostro mix migliore. Dobbiamo dunque stabilizzare il volume dell'audio della traccia che dobbiamo mixare nel brano. Ecco che a questo scopo ci viene in aiuto il compressore. Per capire a fondo cosa sia un compressore ti basta immaginarlo come fosse il fader del della traccia audio. Il fader è quella levetta che serve per alzare e abbassare il volume dell'audio di una traccia e che è presente su tutti i mixer. Quanti più canali audio ha un mixer tanti faders avrà il mixer. Se volessimo stabilizzare manualmente il volume di una traccia, dovremmo abbassare e alzare il fader praticamente ogni secondo e per tutta la durata dell'audio che stiamo lavorando. Ecco cosa fa il compressore. Agisce sul volume in modo automatico. Alza ed abbassa il volume riducendo i picchi dell'audio nei quali, appunto, il volume si alza improvvisamente o si abbassa improvvisamente. Il compressore è quell'effetto che rientra nella famiglia dei cosiddetti processori di dinamica. I processori di dinamica sono i compressori, appunto, i limiter, i noise gate e gli expander. Prima di analizzare tutte le funzioni del compressore, si consiglia di usarlo sempre in parallelo alla traccia audio. Usare una compressione parallela per una traccia audio significa che non metterò direttamente nella traccia che devo lavorare il compressore, ma creerò un bus dedicato solo ed esclusivamente al compressore. Collegherò poi la traccia audio originale a questo bus e livellerò il volume generale d'entrata del bus sulla traccia audio. Il bus non è altro se non un comunissimo canale di effetti, per esempio, che creo appositamente per questo scopo. Allora, qui, solo savatoria dell'agliur , la traccia audio as odio e nonadt la traccia audio digitale di valore di valore di valore di valore di valore delle velole e di valore di valore. Andiamo ora a vedere nel dettaglio quali sono tutte le funzioni del compressore e come possiamo utilizzarle al meglio. Una volta aperto il compressore su una traccia audio, per prima cosa dobbiamo iniziare a lavorare sulla manopola, o anzi detta potenziometro, della threshold. La threshold è la funzione che permette al compressore di attenuare, ovvero abbassare, i segnali di picco della traccia. Più si aumenta la threshold e più il segnale audio viene compresso. A volte alcuni compressori non hanno la threshold ma hanno l'input gain o anche detto solamente input. L'input gain, o input, ha una threshold preimpostata, e questo significa che molto semplicemente ha la stessa funzione della threshold. Infatti più lo si aumenta e più aumenta la threshold. Infatti più lo si aumenta la threshold. Immediatamente dopo aver settato la threshold o l'input gain, dobbiamo regolare la ratio. La ratio serve a regolare l'entità della compressione sul segnale audio da lavorare. Più la ratio è bassa di valore e più i segnali di picco vengono abbassati gentilmente, ovvero lentamente. Più la ratio è alta di valore e più i segnali di picco vengono abbassati bruscamente, ovvero velocemente. Più la ratio è alta di valore e più i segnali di picco vengono abbassati gentilmente. Per avere il maggior controllo possibile sulla regolazione del nostro compressore, dobbiamo tenere sotto controllo costante l'ago del Gain Reduction. Alcuni compressori hanno l'ago, altri hanno il LED meter, ma entrambi hanno la stessa identica funzione. La Gain Reduction ci aiuta notevolmente a capire di quanti dB il compressore sta abbassando il segnale. Su alcuni compressori possiamo trovare la Gain Reduction sotto la semplice sigla DGR. Altre due funzioni del compressore estremamente importanti sono l'Attack ed il Release. I valori di Attack e Release sono espressi in millisecondi. L'Attack gestisce il tempo in cui, una volta che l'audio che stiamo lavorando parte, il compressore entra in funzione e, viceversa, il Release gestisce in quanto tempo il compressore deve smettere di funzionare. Tanto nell'Attack quanto nel Release, con valori bassi abbiamo tempi veloci di entrata o di rilascio del compressore, e con valori alti abbiamo tempi lenti di entrata o di rilascio. Infatti l'Attack è l'attacco del compressore ed il Release è il rilascio del compressore. Dobbiamo fare molta attenzione nella gestione di Attack e Release, perché se usiamo tempi troppo veloci abbiamo la sgradevole conseguenza che il compressore distorcerà il suono. E questo non deve mai accadere in nessun caso con nessuna traccia audio che stiamo lavorando. Un piccolo consiglio che vorrei darti è questo. Se hai intenzione di comprimere il suono di una batteria, ti converrà fare molta attenzione all'ago della Gain Reduction. Perché in questo caso l'ago o il LED Meter, a seconda di quale compressore stai usando, deve tornare sempre sullo zero tra un colpo su un tamburo ed il successivo. Ma come comprimere adeguatamente una batteria completa lo vedremo in un tutorial successivo a questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La funzione Dry-Wet ha la stessa funzione della compressione parallela. Qualora decidessi di non usarla ma di inserire il compressore direttamente nel canale audio che stai lavorando. Quando Dry-Wet è spostato tutto su Dry, il compressore è bypassato nel segnale. Più giriamo il potenziometro verso il Wet, più il compressore verrà inserito seguendo tutti i parametri che gli abbiamo impostato. Altra funzione importante sulla quale dobbiamo operare arrivati a questo punto è l'Output Gain o anzi chiamato Make-Up. Una volta impostate tutte le altre funzioni del compressore, dobbiamo riportare il segnale audio della traccia al volume originale, ovvero allo stesso volume che aveva quando non avevamo ancora iniziato ad inserire il compressore. Per fare questo, dobbiamo staccare il compressore, ascoltare il volume della traccia audio originale e reinserirlo. Alziamo o abbassiamo l'Output Gain o Make-Up fino ad arrivare ad un volume il più simile possibile all'originale. Grazie a tutti! Arrivati a questo punto Manca il lavoro forse più importante, ovvero quello di mixare la traccia audio compressa con la traccia audio originale, questo perché si è scelto di operare con la compressione parallela. Infatti, prima ho creato un bus, o traccia, che includesse solo il compressore e poi ho agganciato la traccia audio originale non compressa a questo bus tramite la mandata audio. Quello che farò adesso è di alzare fino a 0 dB il volume della traccia audio originale non compressa. Abbasso completamente il volume del sub con la compressione e poi inizierò ad alzarne gradualmente il volume. La compressione parallela ci aiuta per non rischiare di perdere i transienti del segnale audio. Su cosa siano i transienti e quanto siano importanti, lo vedremo in un altro tutorial. Per ora ti basti sapere che il transiente è l'attacco o principio dell'audio. La compressione parallela ci aiuta per non rischiare di perdere i transienti del segnale audio. La compressione parallela ci aiuta per non rischiare di perdere i transienti del segnale audio. Questo tutorial si conclude qui. La differenza che c'è tra te ed un fonico professionista è solo quella legata al tempo che vorrai dedicare allo studio del suono. Per cui, l'unico consiglio che ti posso dare sull'uso del compressore è di fare quante più prove possibili. Di farne quante più possibili anche sulla stessa traccia audio. Buon lavoro e, come sempre, buona musica. Ciao!